Mr. Califano, un'isernia che ha buttato il cuore oltre l'ostacolo, avete retto bene, diciamo una buona mezz'ora, avete resistito al Termoli, poi quel gol, diciamo regalato, ha spezzato gli equilibri in campo. Per quanto riguarda la partita, come dicevo anche ai tuoi colleghi, mi risulta difficile parlare della partita, per quello che è successo prima della gara, che non ha niente a che vedere con lo sport. Mi avrebbe fatto piacere venire qui e parlare della partita, vinta o persa, non era importante, ma trovarmi qui di fronte a voi e parlare di tutto, tranne che di calcio, perché noi dobbiamo parlare di quello che è successo prima, noi siamo stati aggrediti e questo oggi, che siamo al 2014, ancora succedono queste cose, credo che è l'ultima cosa che dobbiamo vedere ancora nello sport. Come dicevo prima, parlavamo prima a microfoni spenti, abbiamo fatto derby importanti, derby io sono di Pagani, quindi immagino un po' che derby ho potuto vivere, però la rivalità sportiva è una cosa e quello che abbiamo subito prima di questa gara è un'altra cosa. Noi siamo arrivati al campo e siamo stati aggrediti da un centinaio di pseudo tifosi che ci aspettavano dietro queste palazzine e noi purtroppo siamo arrivati qui senza scorta e questo pure è un'altra cosa su cui andare a vedere come mai, visto che comunque tutta la settimana questa partita è stata vietata alla tifoseria dell'Isegno. Ministro, per lei era una novità questa? Questa era una novità, io questa settimana l'ho vissuta in maniera anomala perché era una novità, già il fatto di trovarmi al cospetto di una partita senza tifosi era una cosa nuova, una cosa che non sapevo di questa rivalità tra i Serni e Termoli, però al di là di questo e della rivalità la voglio capire assolutamente come dicevo prima, sono cose anche simpatiche il vecchio campanilismo, però sinceramente venire qui a giocare con Pullman, con una squadra di ragazzini e trovarmi al cospetto di questi, non so come definirli, che ti aspettano per farci questo agguato, lanciare bombe Molotov, Pietro nel Pullman, prendere due ragazzi che stanno all'entrata del Pullman, dagli un cazzotto in faccia e trovarmi poi di fronte alla faccia dei miei ragazzi così con la paura negli occhi, come fai a preparare poi l'ante gara? Faremo restando che noi comunque durante la settimana avevamo chiaramente da un punto di vista tecnico, tattico, preparato tutta la partita, però quando arrivi qui e ti trovi di fronte a queste cose qua ti cadono le braccia. Voltiamo pagina, domenica prossima però tornate ad avere la concentrazione giusta per cercare punti importanti in fase salvezza che diventa l'obiettivo vostro. Sicuramente noi dobbiamo fare i nostri punti, come ho detto anche ai ragazzi, dobbiamo cercare prima di tutto di staccare le due di sotto e poi man mano cercare un obiettivo, andare a step. Primo obiettivo è quello di staccare le due compagini che ci sono sotto, poi dopo se riusciamo a migliorare la posizione. Io credo che i ragazzi finora hanno dimostrato che ce la possono fare, mi stanno seguendo fino al primo momento, tranne oggi un paio di disattenzioni, penso che non ho niente da dire ai miei ragazzi.